...unque questi ti vedono... ...e ti corrono... ...cazzaro... ...speriamo... ...no no no ...all'ultimo... ...no... ...porca puttana ero già qui e mi pregustavo la chiusura della diretta... ...dio dammi la farza di lombestemmiare... ...allora... ...poi finisce che non mi fanno più cuore perché ho aggiuntamente tanto le palle... ...andatevene a fanculo... ...intanto è una diretta notturna... ...eccona ragazzi... ...lo streaming su alien potrei non avere la forza di farlo... ...cioè detto sinceramente non ho mai finito un gioco degli alien... ...così... ...e con questo ho detto tutto... ...io sono fermo... ...io sono fermo... ...tu non mi vedi perché io sono fermo... ...soprattutto devi fare un altro pattern... ...bastardo... ...riproviamo la tattica di prima... ...notte a tutti Frankies... ...sì notte a tutti... ...notte Frankies... ...potrei fartelo io... ...lo streaming... ...e che faccio ti ospito qua a casa... ...a Sheen... ...per fare la diretta... ...tra l'altro anche i miei amici meno paurosi... ...han detto che l'hanno fatto con l'Oculus Rift... ...ed è una roba assurda... ...so zitti che devo non fare cazzate qua... ...che poi dopo 40 volte che fai sta roba... ...ti innervosisci... ...e la fai di corsa... ...con risultati pessimi... ...ok... ...questo se ne sta andando... ...questo dove cazzo va... ...perde tempo... ...si fa il giro largo... ...e alla fine tornerà dietro l'altro... ...mi sa che se muoio ancora un'altra volta... ...mi conviene... ...vedì... ...mi provo adesso... ...mari... ...sù... ...questo che giro fa? ... ...io non lo so se passando attraverso sta vetrata mi vede... ...poi mentre li spieghi si gira di colpo il bastardo... ...e ti sgama mica per niente... ...non girarti... ...non girarti... ...non girarti... ...e non si gira... ...grande... ...adesso procedendolo in silenzio... ...i clicca de merda... ...e sottolineo de merda... ...adesso io mi avvicinerò... ...lentamente... ...oddio cosa ho fatto? ...non ho preso il mattone per sbaglio... ...vabbè non se ne è accorto... ...ecco... ...e questi sono quegli errori da nervosismo... ...non ho mattoni... ...ecco adesso io devo... ...arrivargli alle spalle e pugnalarlo... ...anche se sono di tre quarti... ...no non ce la faccio... ...ho paura di arrivare di lato e che lui mi veda... ...in questo momento... ...mi sto cagando addosso di nuovo... ...allora fatemi cercare un mattone... ...ho paura a spararli perché... ...pado poi magari mi avvicino... ...ecco una bottiglia andrà bene... ...salute al massimo... ...questo al massimo... ...uno dice ce la farai... ...dov'è? ...di qua... ... ...ooohh... ...ahhh... ...ohh... ...ɲra für eine Methy idea... ...dell a liberazione... ...del senso di gioia... che provo in sto momento... bene scendi sono stupita sono stupita... l'ho morto tre volte... fa anche la sarcastica